se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account contattatemi in chat privata dove ci potremo mettere d'accordo sul prezzo e dove potrete visionare i listini ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto dal titolo vi porterò una specie di after patch per il glitch che è stato patchato poco fa quello là del money drop ragazzi quello là dove vi droppavo i soldi è famosissimo ragazzi insomma questo qua funziona sia per il metodo per chi appunto fa il metodo dei 1000 dollari sia per chi quindi a rango 45 sia chi è inferiore al rango 45 che utilizzava il metodo del veicolo Pegasus se volete ragazzi un video sul metodo del veicolo Pegasus lo trovate sul canale vi ricordo di entrare nel gruppo telegram e nel canale telegram per rimanere aggiornati sui video ragazzi se vi serve una mano perché vi rispondo io personalmente appunto perché molte volte youtube non invia le notifiche ad esempio oggi a caso ho visto nelle iscrizioni che le visualizzazioni non vengono contate tutti quanti i video hanno nessuna visualizzazione però tralasciando questo ragazzi ritornando al glitch è praticamente possiamo dire uscita un after patch l'ho vista poco fa e vi porto subito il video su come fare questo glitch funziona vi ripeto sia su ps4 che su xbox one quindi ragazzi per farlo i requisiti ve li ripeto un garage a caso sia di un appartamento che di staccato l'importante è che abbia 10 posti in questo garage ci deve essere un'auto a caso quindi se è pieno bene se non è pieno è indifferente insomma l'importante è che ci sia almeno un'auto al suo interno quindi ragazzi come vedete da questa clip sono in una sessione pubblica perché dovrete essere in una sessione pubblica questa sessione pubblica però deve avere un requisito particolare ovvero guardate bene sulla mappa all'aeroporto ci dovranno essere altre persone che stanno facendo il glitch quindi persone che insomma trovate nella sessione che gli è riuscito il glitch perché magari non gli è stato bacciato e quindi li funziona ancora per il resto ragazzi il glitch si fa nello stesso modo di prima sembra una cavolata effettivamente lo è però funziona ragazzi quindi esattamente come prima salite sulla deluxo oppure su qualsiasi altro veicolo va benissimo qualsiasi veicolo io uso la deluxo per comodità chiamate l'ester farà un primo squillo farà un secondo squillo fate freccia in su freccia in su x ed r2 appena vi esce il menu a tendina vedete freccia in su freccia in su x ed r2 li dovrete premere insieme x ed r2 insomma adesso ragazzi se vi esce sopra la minimappa ha individuato un aereo vuol dire che il glitch vi è riuscito alla perfezione se vi scompare quella scritta vuol dire che avete insomma siete stati o troppo veloci o troppo lenti tranquilli ragazzi quando sarà bacciato lo scriverò nel commento bloccato in alto come al solito invece di funzionante ci scriverò bacciato quindi andate tranquilli comunque per qualsiasi chiarimento vi ricordo di entrare su telegram link nel commento bloccato in alto in descrizione detto questo ragazzi come vedete mi sto dirigendo all'aeroporto che come vedete come vi farò vedere ci stanno addirittura 10 persone volendo potete anche mettere tranquillamente la modalità passiva e adesso ragazzi una volta arrivati all'aeroporto o utilizzate questo hangar qua oppure quello là giù in fondo che sta appunto alla mia destra rispetto alla delaxo e come vedete appena arrivati vi da 1000 dollari oppure ve ne da 4000 a me in questo caso stranamente me ne ha dati 1000 direttamente e me ne ha cominciati a droppare perché c'era altra gente che lo stava facendo adesso vi faccio vedere ragazzi su una sessione di 25 persone 10 stavano facendo il glitch quindi figuratevi vi ricordo ragazzi di non esagerare e di quello che fate con questo glitch spendetelo quindi magari se fate 10 milioni ci comprate le delaxo e le mettete nei garage così metti caso che ragazzi un giorno la rockstar si sveglia che leva i soldi a tutti magari voi avevate 500.000 dollari ve li leva vi andate a rivendere le delaxo che avevate fatto con il glitch e avete completato tutto quanto quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se siete nuovi avete iscriviti al canale per i migliori glitch su gta online e Red Dead Redemption 2 online attivate la campanella di notifico importantissimo e noi ci vediamo al prossimo video